Arriva un'altra formale denuncia presentata dal subambientalista Antonio Binetti alla Guardia Costiera di Barletta su presunti liquidi sversati ieri pomeriggio sul litorale di Ponente. Da quanto raccontato, ieri pomeriggio intorno alle 16 il subambientalista avrebbe notato a seguito di una segnalazione alcuni operai intenti a scaricare del materiale liquido non identificato sulla battigia tramite un tubo di grandi dimensioni lungo circa 200 metri. In particolare ci sarebbero state, secondo quanto documentato dai video, due pompe di aspirazione una all'interno dello scavo effettuato sul manto stradale e l'altra in un tombino di fogna. Addetta dal subambientalista o un operaio avrebbe riferito che ci sarebbe stato un problema e per questo stavano scaricando sostanza liquida sulla battigia. Binetti ha alertato la sala operativa della Guardia Costiera che ha sottoposto la zona da accertamenti tanto che questa mattina sono state portate a termine delle analisi da parte dei tecnici di Arpa Puglia che dovranno chiarire se i liquidi sversati ieri sono sostanze inquinanti e se si siano presentate criticità all'ambiente. A questa zona si aggiungono le criticità della zona Belvedere dove ci sarebbe invece il pericolo secondo il portavoce di coalizione civica Barletta Michele Napoletano di caduta e dispersione in mare di altro materiale pericoloso. La vicenda riguarderebbe la presenza di una discarica e di materiali come l'amianto nell'area costiera di Levante e in particolare in zona Belvedere tornata nei giorni scorsi alla ribalta con l'avvio da parte del reparto subacquei della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e dei tecnici di Arpa Puglia di campionamenti in mare in prossimità del sito interessato. Anche questa denuncia fu portata avanti da Binetti che alertò la Guardia Costiera circa la presenza di amiantro nella zona portando poi al sequestro in seguito di un'operazione coordinata dalla Procura di Trani di circa 3.500 metri quadri con un cumulo di rifiuti stimato intorno a 1.400 metri cubi. Alla luce di una problematica immersa da oltre 20 anni coalizione civica si chiede perché aspettare che fosse un semplice cittadino a denunciare il fenomeno e perché molto spesso per le questioni riguardanti l'ambiente ci si muove in maniera tardiva. La zona a Belvedere se bonificata a concluso Napoletano creerebbe i presupposti per la nascita di una grande area naturale che porterebbe poi tramite dei percorsi dedicati ad essere collegata alla vicina zona naturale di Ariscianne favorendo la ricocitura delle due zone di Barletta.